ciao amici volete sapere qual è uno dei migliori alleati per dimagrire e sgonfiarsi è lo zenzero lo zenzero oltre al dimagrimento ha tante virtù benefiche sì ma perché è così piccante è lo zingiberene il principio attivo che dà il sapore piccante e attiva il metabolismo se usiamo lo zenzero ogni tanto otteniamo otteniamo più sapore ma se lo usiamo spesso otteniamo anche numerosi benefici per la salute e il dimagrimento uno dei modi più facili per mangiare zenzero ogni giorno è berlo vediamo come fare il tè freddo di zenzero dimagrante e antigonfiore adatto per l'estate se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ingredienti un litro di acqua un cucchiaio di foglie di tè verde 3 centimetri di radice di zenzero 6 foglie di menta mezzo limone preparazione fare bollire un litro di acqua con le foglie di tè verde tagliare lo zenzero a fettine sminuzzare la menta e metterli sul fondo di una caraffa resistente al caldo poi versarci il tè verde lasciare raffreddare almeno mezz'ora se serve dolcificare con sciroppo di agave e servire con ghiaccio e succo di limone proprietà degli ingredienti lo zenzero è termogenico quindi aumenta il metabolismo è depurativo favorisce l'eliminazione delle tossine da parte dell'intestino il tè verde è antiossidante fornisce sostanze contro radicali liberi e invecchiamento contiene polifenoli è depurativo dimagrante e antifermentativo la menta contiene oli essenziali digestivi rinfrescanti e depurativi il limone è ricco di vitamina c ed è il re degli alcalinizzanti la miscela di zenzero tè verde menta e limone è la bevanda ideale contro il senso di gonfiore la pancia gonfia e l'eccesso di grasso si può bere fredda anche durante i pasti ma non dolcificata se vuoi eliminare una volta per tutte la pancia gonfia puoi leggere il mio ebook con tutti i miei segreti e la guida all'alimentazione antigonfiore dimostrata scientificamente e realmente efficace trovi il link in descrizione per vedere tante altre ricette dimagranti e antigonfiore è facile basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche così vi avvisano quando escono i miei video vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa agli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere va in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao